Un buon pari nella prima giornata di campionato contro il Vizzini. Adesso il pro Ragusa del presidente Giorgio Mirabella è atteso all'esordi in casa al campo exenale di Di Archimede a Ragusa con lo stadio ancora chiuso al pubblico da un match impegnativo contro il Pachino. La prestazione a Vizzini è stata ottima sotto l'aspetto della corsa, dell'impegno, siamo contenti di quella prestazione. E' chiaro che non si finisce là, ce n'è una ogni settimana. Adesso questa di sabato sarà impegnativa, sappiamo che sarà impegnativa, però come abbiamo fatto a Vizzini, una cosa alla volta e le portiamo avanti. Una squadra a gran completo o ovviamente ci saranno un po' di problemi? No, parlare di gran completo non è possibile per adesso. Ci arrangiamo e cerchiamo di mettere comunque il massimo impegno. Che pro Ragusa si vedrà in campo? Spero combattivo, ordinato, che abbia voglia di giocare. Sono sicuro che queste sono cose che non mancano perché non sono mancate già dall'inizio della preparazione, dall'inizio del raduno, dall'inizio degli allenamenti che abbiamo fatto. Quindi questa penso sia una certezza. Vediamo se danno continuità almeno a queste cose. Sì, un match impegnativo che però dovremmo riuscire a vincere per le nostre ambizioni di classifica. Anche se avremo la squadra un po' rimaneggiata ce la metteremo tutta a vincere contro il Pagini in casa perché è una partita da vincere. A prescindere dalla competitività della squadra avversaria. A Vizzini una partita molto tirata, potevamo vincerla, abbiamo preso due traverse. Ma abbiamo tenuto bene, ci mancavano un bel po' di giocatori molto importanti per la squadra, tra cui Salvo Vitale, Valentino Conti, Alessandro Gascone, Francesco Zocco. Però nonostante questo abbiamo disputato una buona partita, peccato per il pareggio. Non siamo riusciti a non prendere gol e questo è un passo avanti. E poi nulla di che, è una partita tirata, due traverse nostre, qualche occasione loro ma molto vaghe. Sì, è una partita che è importante perché è la prima in casa, vogliamo fare bella figura con i tifosi. Veniamo pure da un pareggio in trasferta molto importante perché il campo di Vizzini è molto ostico. E quindi, da questo punto di vista, siamo molto soddisfatti della squadra, anche perché eravamo molto rimaneggiati dal punto di vista numerico. E i ragazzi si sono comportati molto bene. Quindi, per la prima in casa, ci aspettiamo una bella prestazione, sperando che il risultato sia a nostro favore naturalmente. Grazie a tutti.